Benvenute, benvenuti a questo format delle interviste. Lo dico sempre, prima o poi dovrei darci anche un nome. Oggi siamo in compagnia di Alberto Bogo, si pronuncia così? Sì, perfetto. Salve a tutti. Alberto Bogo, regista e regista in particolare di un settore che noi cambiamo la criminologia conosciamo e seguiamo. Ma lascio la parola a te Alberto per presentarti e dirci chi sei, cosa fai e perché, perché lo fai? Beh, allora io ho iniziato a fare film horror proprio dieci anni fa, un po' per gioco. Sono partito, il mio primo film è stato Extreme Jukebox, che era un horror comedy e che grazie la partecipazione di personaggi piuttosto in vista, come Pino Scotto. Insomma, un film che si è creato una sua fama, poi è uscito in America per la Troma Entertainment, che è la più famosa casa al mondo per la distribuzione di film, diciamo, di B-movie. e quindi poi da lì in poi è diventata una cosa un po' più seria. Ho fatto questo secondo film, che è Terror Takeaway, che pur essendo un piccolo film indipendente, nel 2018 è riuscito a uscire anche nel cinema e poi di seguito quello in America e ora sono prossimo alla pubblicazione di Terror Zone, che sarà appunto il mio terzo film, una svolta un po' diversa perché sarà un horror antologico formato da cinque episodi e si parlerà di Lockdown. Complimenti, Alberto. I titoli sono fantastici. Io sono di parte perché qualcosa ho visto, ma voglio lasciare tutta la creatività, tutto uno spazio a te. Qui non si fanno spoiler. Però una cosa, fatela dire, veramente complimenti e non ci siamo messi d'accordo. Tu ti occupi di morte, disperazione e fine del genere umano, come spesso anche noi criminologi. Però mi piace tantissimo di te, l'abbiamo detto fuori onda e lo confermo anche qui, il fatto che il tuo taglio è un taglio di analisi, è un taglio sociale. Sei bravo a indagare i meccanismi dell'essere umano. Io ti dico questa cosa e vediamo se sei d'accordo. L'horror è qualcosa che aiuta tantissimo a indagare anche le parti alla luce, le parti meno oscure e quindi evviva l'horror. Sono d'accordo con quello che dici te nel senso che è difficile un po' stabilire perché mi sono gettato su questo genere. Devo dire che sono motivi diversi. Ci sono dei motivi personali che sicuramente non posso approfondire ora. Ci sono dei motivi estetici perché a me l'horror è sempre è sempre piaciuto anche se io ho iniziato poi in realtà a sionare nel cinema all'università soprattutto guardando principalmente film d'autore, i cosiddetti film impegnati, tanto cinema de sé. E poi c'è un discorso anche lavorativo perché io, essendo la mia prima occupazione, quella diciamo alimentare, quella di educatore, ho lavorato proprio con dei criminali anche. Ho lavorato in comunità di recupero dove dovevo gestire anche persone che avevano, passavano diciamo dalle comunità di recupero tossicodipendenze e alcolisti anche per non passare dalla prigione. E quindi sono stato proprio a contatto personalmente con personaggi abbastanza particolare. Il fatto che tu debba partire dalle storie vere per raccontare la creatività, la fantasia, l'immaginazione è qualcosa che vedo fare sempre più nel cinema moderno. Quindi di nuovo complimenti per questa grande grande sperimentazione e mi ritrovo anche nelle cose del mio lavoro perché avendo a che fare anch'io spesso con dei mattacchioni, dei piccoli criminali o dei grandi criminali, certe volte ritrovo nelle mie esperienze le parole che hai appena detto. Quindi assolutamente. anzi, anzi, devi secondo me aggiungere una scrittura buona perché certe volte la vita è talmente fantasiosa che se non scrivi bene la realtà qualcuno poi non ci crede. Ti è mai capitato di inserire in qualche film qualcosa di assolutamente vero ma di doverlo sistemare perché altrimenti sei nel paradosso. E concludo. La realtà sembra la fantasia e la fantasia è accettata. Hai detto una cosa a cui stavo pensando proprio in questi giorni rispetto a una persona che conosco di cui non posso fare il nome ma che ha avuto una vita che se io portassi in sceneggiatura probabilmente risulterebbe troppo esasperata. È una questione proprio di decodificare delle cose, cioè ci sono delle cose che al cinema funzionano e quindi è una questione di forma. Molto spesso certe vite per il cinema sarebbero troppo parossistiche, troppo esagerate perché come dici te spesso la realtà è molto peggio dell'immaginazione. Quello che io cerco di fare è comunque attingere molto dalla mia fantasia. È un po' una cosa strana, io ho uno sguardo certamente sulla realtà. Poi tante cose le prendo da me stesso, da mie paure, da mie curiosità morbose. Quindi è un cinema, diciamo, il mio in parte sociologico perché sì, c'è uno sguardo assolutamente all'esterno, collettivo. Nel mio secondo film, Terror Takeaway, parlo del problema del lavoro e di come le persone cercano di reagire a questo problema cercando un po' anche di truffare gli altri, quindi della guerra fra i poveri che si crea. Però poi tante trovate sono proprio cose che mi escono da dentro e quindi c'è sicuramente una ricerca mia interiore in questo. È un lavoro complesso e l'ambizione da parte mia è di riuscire ad andare sempre più a fondo in questa ricerca. Il tuo è un lavoro di scavo come ogni lavoro del bravo autore. È un lavoro di scavo. Forse il lavoro della ricerca, il lavoro di scavo, il lavoro dell'indagine è quasi più importante poi delle riprese del film. Ho detto quasi, perché noi vogliamo vedere tanti altri tuoi film. È un lavoro quasi ossessivo, quasi maniacale. Faccio ancora il rimbalzo con la mia vita, non permettermi al centro dell'attenzione, ma per dire quanto ti sento vicino, quanto è comune questo territorio. Stavo lavorando a un caso di presunto satanismo e ho fatto mesi e mesi dove a casa mia qualsiasi device faceva, riproduceva un documentario, una messa nera. E mi ricordo che a letto, non so che a letto si dovrebbe fare altro, però vabbè ormai l'età è quella che è. No, sto scherzando. Sono andato a letto con le cuffie, a un certo punto mi sposto un po' goffamente e si sente una messa nera delle urla. La mia compagna, che fa la psicologo, quindi è un po' preparata a queste pazzie, mi ha guardato dicendo sei un pirla, sei un pirla. Ecco, questa battuta e questo piccolo aneddoto su di me, proprio per dire che il tuo lavoro di scafo è un lavoro che ti porta a essere maniacale, ossessivo. Allora, se ci dovesse essere qualcuno in ascolto dei giovani, noi le interviste, le facciamo ragioni, e dovessimo aprire la scatola del film, cosa gli possiamo dire? Qual è il percorso buono per costruire un film? Da dove si parte? E questo scavo, come si può insegnarlo a chi ci ascolta? Una bellissima domanda. Allora, io, ci sono tanti libri che spiegano come il lavoro del regista, ovviamente è diverso, no? Da tanti altri lavori, come, lo so, pittore, scrittore. Ecco, io quello che posso dire è che un film nasce, almeno parlando di un regista autore, cioè, come nel mio caso, quindi che si scrive il soggetto, la sceneggiatura e che supervisiona qualsiasi parte del film, dalla prima idea fino al cut finale. Un film può nascere da tante cose, può nascere da un sogno, può nascere da un'immagine che ti si crea nella testa, raramente nasce da una storia, perché la storia si crea dopo. Nasce da una suggestione. Ora, la suggestione cambia a seconda della persona. Uno può iniziare ad avere un'idea per un film da una canzone, per esempio, da un fatto che gli è successo da piccolo o da una serie di fatti che lui si mischia nella testa. Nel mio caso, io posso dire che quest'ultimo, per esempio, è nato dal lockdown, sicuramente. È stato facile perché, insomma, mi ha proprio spinto a scrivere qualcosa come relazione e quindi è nato da questo pensiero abbastanza semplice, ma di cui si parla poco. Cioè, cosa non abbiamo visto durante il lockdown? Quali sono le narrazioni che non sono passate per la TV? Esempio, tutte le coppie di amanti che si vedevano di nascosto quando c'era, insomma, non si poteva uscire di casa dopo le 22, tutti gli spacciatori, le prostitute, cosa hanno fatto in quel periodo? Ecco, questa è la domanda che mi ha spinto a scrivere questo film. E quindi, in questo caso, è stato un motore preciso. Però, insomma, a chi approccia il cinema dico, seguite prima di tutto voi stessi. L'unico consiglio che mi sento di dare è non pensate questa cosa. Io voglio fare un film perché va di moda quello, perché il target è quello. Io credo che quella è la strada per il fallimento. Cioè, se voi dovete occupare un anno della vostra vita, come nel mio caso, fare piccoli film vuol dire che ci metti un anno a farlo, fra preproduzione, casting, montaggio e quando lo giri. E quindi, dico, partite da qualcosa che sentite vostro, che vi piace. Ecco, questo è l'unico consiglio che mi sento di dare. Quindi, Alberto, tu dici, siate autentici. Fate la vostra cosa. Sì. Paga sempre quello. Paga sempre. Non sarà mai un fallimento, se non autentico. Qualcosa, sicuramente, uscirà, qualcuno apprezzerà questa cosa. Che bella, che belle parole, specialmente sia per i giovani, ma anche per quelli che si vogliono avvicinare a questo mondo, che hai fatto di cinema, ma hai fatto anche di video su YouTube, di, perché no, clip musicali, pubblicità. Cioè, ti porta ovunque. Poi c'è tutta l'industria del podcasting che sta andando con numeri pazzeschi. Assolutamente pazzeschi. Finalmente, anche in Italia. Allora, ingarbugliamo l'intervista, la chiacchierata. Dai, mettiamo un po' di bombe a mano e dinamite. Vai. Allora, quando uno è autentico, dice quello che pensa, parla anche del lato oscuro del cuore, quello che non si vede. Nel momento in cui tu diventi autentico e parli del lato oscuro, magari è capitato anche a te, arriva sempre, anzi arrivano sempre un po' gli etero o quella pletola di persone che ti dicono Sei tu il male, con le tue narrazioni, con i tuoi libri che parlano di crimine, serial killer o di criminalità. Tu, con i tuoi film, crei ragazzi che non vogliono andare a scuola, crei più criminalità, crei più uso di droga e di violenza sulle donne. Ora, Alberto, spero che tu sia molto più saggio di me, perché a me ogni tanto qualche vaffanculo mi parte. Cosa possiamo rispondere a queste persone? Ma non per me e te, ormai siamo croccanti ma maturi, ecco, diciamo, non più diciamo. Presumoti, sì. Cosa possiamo dire a quelli che stanno vivendo un po' con fattica l'autenticità per questi motivi? La primissima cosa che vorrei dire, ecco, è questa. Per esempio, parlo dei fan dell'horror. Allora, i fan del cinema horror, per esempio, sono veramente dei bravi ragazzi. Cioè, il problema dei fan del cinema horror è che forse escono troppo poco di casa. Ora, io sto generalizzando, ma è per dire, l'horror, perché io un pochino sono conosciuto? Perché è il genere dove i fan veramente seguono i registi, seguono i film. E quindi, se tu fai cinema horror, hai un seguito di persone che seguono più da vicino quello che fai. Se tu fai film action o fai film di fantascienza, è difficile che diventi un regista di fantascienza. Uno perché ne escono pochi. Idem se fai film western. Chi è il regista di film western? Ne escono uno ogni tre anni. Quindi l'horror è, giusto per dirla subito, tanti pensano un genere per depravati, no? Perché qualche anno fa veniva considerato come la stregua del porno. Oggi, per fortuna, non è più così. Ma c'è sempre qualcuno, come dici te, che lo guarda un po' storto. Ecco, io dico, no, l'horror è un genere, innanzitutto, che è un pubblico molto, a volte anche molto raffinato, molto educato e molto colto. E questo lo so perché io sono stato, prima di tutto, sono un fan dell'horror. Quindi ho incontrato tante persone ai festival e non ho mai avuto problemi particolari. Quindi, per quanto mi riguarda, per me la violenza è sempre catartica. Poi, di solito, ci sono dei trailer, delle recensioni che bene o male spiegano a cosa uno va incontro. Quindi, insomma, non vedo grossi problemi rispetto a questo. E quindi, sì, hai accennato una cosa che sta diventando un problema nell'arte molto serio. Cioè, di questa sorta di perbenismo politicamente corretto, un po' imposto da una serie di persone. E quindi, per l'arte, questo è un brutto problema, ecco. Tanti sono molto condizionati da questo. Grazie, Alberto. Questa è veramente una bella testimonianza. Ma lasciamo da parte un attimo i cagacazzi. Continuiamo? Naturalmente, Alberto, quando fa le pause, ha tequila messicana che beve da un bicchiere di un peschio. No, lo diciamo, lo diciamo. Dopo le denti. Quella lì è acqua santa, benedetta dalla santa muerte, dal culto, per esempio, quello messicano. Quindi, dicevamo, togliamo da parte i cagacazzi, andiamo avanti a aprire un pochettino il tuo giocattolo e roviniamoci la giornata. Parliamo di due cose. Uno, ho scritto una cosa bene. Quando la scrittura è buona, il regista e l'attore, diciamo che è un po' avvantaggiato. Poi il regista e l'autore riesce anche nelle riprese, poi spiegherai meglio tu a fare qualcosa. Poi il montaggio è una nuova scrittura. Però se scrivi bene, fai tutto per bene. Allora, diciamo, hai scritto bene, hai un buon trattamento, hai un buon pilota, hai la sceneggiatura con tutto il metodo, quello della nonna di Stalle Kubrick, un minuto, una pagina, tutto perfetto. Hai scaricato Celx e hai pagato anche l'abolamento, questa dopo la tagliamo. Cosa te ne fai? Come fai a farlo conoscere più persone? Ma non per il nostro narcisismo, ma soprattutto per far godere di una storia a più persone. Oggi, cosa te ne fai? Come riesci a picciare, sentimi la nese imbruttito, no? Come fai a picciare le cose? Come fai a uscire dal tuo studio, dal tuo garage, dal tuo capannone? Guarda, io quando ho iniziato, dieci anni fa, non avevo assolutamente idea. Come dico io, ho imparato a fura di prendere molte porte contro la faccia. Nel senso che io il film sono andato a Cannes, al Marce di Cannes, perché tanti pensano che uno va a Cannes, una passerà di realtà, un mercato, come il mercato del pesce, se tu hai del pesce lo vendi. Io avevo un film, sono andato lì e poi mi è andata bene che siamo riusciti a vendere questo film. Io certamente non sono diventato ricco, per niente, questo lo dico, perché tutti pensano registi e sono tutti ricchissimi. No, però mi ha dato una bella visibilità, nel senso che il film è stato effettivamente distribuito in tutti gli Stati Uniti d'America. C'era Lloyd Kaufman, che è uno davvero molto conosciuto in tutto il mondo del cinema, che ha presentato questo piccolo film di un regista genovese. Anzi, cito anche Andrea Leonetti, che è mio socio, insieme a me l'ha scritto e l'ha prodotto. E quindi io ho imparato così, ho detto ok, se uno fa qualcosa, bello o brutto, che però ha un qualcosa di identificabile, nel mio caso era una cosa molto particolare, di nicchia, un mercato lo può avere. Per il secondo film ero molto più preparato, sotto tanti aspetti, quindi avevo già dei contatti per farlo uscire con Movie Day, che ringrazio, che penso sarà anche il distributtore del mio prossimo film. È un modo di distribuire i film un po' diverso dal solito, e ora non ve lo spiego qua, sarebbe un po' lunga. Diciamo che uno deve fare veramente tanto da solo, cioè nel mio caso, io mi faccio anche da gente, mi sono fatto i contatti spendendo tanto tempo e anche tanti soldi, perché poi devi andare in giro per l'Italia, e ho sempre fatto dei film trovando investimenti privati, perché, ahimè, questo lo dico non per sconfortare i giovani, ma aspettare che arrivi il produttore che dice che è bravo, che è bogo, è una roba che, insomma, sono dieci anni e sono ancora a qualche aspetto. Quindi ho detto, io le cose le faccio, perché comunque io ho bisogno di farle. E ho trovato dei fondi privati, cioè amici, fan, persone che credevano al mio lavoro, e una volta trovato il minimo indispensabile per girare, ho detto, ok, lo giriamo, già lavorando alla distribuzione prima, perché ovviamente se tu coinvolgi delle persone, degli attori, e dici, guarda che poi il film esce, e proprio questa è la differenza. Cioè, loro partecipano, fanno anche uno sforzo, però sanno che poi il film da qualche parte va. E quindi io ho lavorato in questo modo. Non ho imparato da nessuno, ho imparato da bogo. Ho preso delle porte in faccia e ho detto, beh, così ci riesco. Sono arrivato a farne tre, quindi ora sono anche incoraggiato, magari riuscirò a farne anche quattro, cinque, sei. Noi, noi, non vediamo l'ora. Ho usato la parola noi, perché mi metto anche tra i fan, no? Sì, qualcuno c'è. Mi hai fatto venire in mente anche la storia dell'autore, del sceneggiatore di Squid Game. Non so se hai sentito la sua intervista, che ha detto che l'hanno rifiutato quattro, cinquecento volte. Lui addirittura si era venduto il laptop per quattrocento, cinquecento dollari, perché stava proprio, ecco, quasi alla cara del gas. E poi è diventato quello, è diventato. Certo, non tutti faranno quello esploare, ma questo insegnamento è una figata. Anzi, mi fa venire in mente anche una cosa un po' romantica. C'è una domanda veramente proprio da fan, ma anche piuttosto imbranato e anche un po' sciocco, no? Mi ha fatto venire in mente qualcosa di poetico. C'è stato un momento dove, che so, hai preso lo scotch, la carta, lo spago, hai rubato i trucchi a tua moglie, a tua compagna, alla vicina di casa, hai preso un dinosaurio di plastica, l'hai inquadrato da qui sotto, hai fatto diventare un mostro gigante. C'è qualcosa del genere? Così diamo un po' di allegria, un po' di speranza a tutti. Ce ne puoi raccontare? C'è pieno di questi momenti. Ma io il mio primo figlio in parte lo sono finanziato vendendo tutta la mia collezione di dischi, che era enorme, però l'ho fatto perché mi servivano, è costato di più di quello che pensavo, oramai eravamo in ballo e quindi io non ho più ancora la collezione di dischi. Poi ricordo sicuramente il carrello che mi sono costruito insieme all'operatore del mio primo figlio, Jacopo Guastamà, che è stato avanti nel mio garage e ci siamo costruiti noi il carrello, perché comunque affittarlo era un costo e quello l'abbiamo fatto così, di legno proprio. Io che poi tra l'altro non è che sono affatto bravo con queste faccende di casa, diciamo, pratiche, però l'abbiamo fatto. E quindi sì, ci sono tante storie come queste. È il momento delle domande stupide, è l'ultima promessa, l'ultima domanda stupida. È sangue. Cioè, no, aspetta, aspetta, che poi uno dice, ah, ma tu vai subito lì. No, no, il sangue. Cioè, è costoso. Non è che puoi mettere dentro un liquido tossico e far morire veramente le tue attrici. Il sangue. Due, effetti speciali. Tre, come si fa a coordinare il tutto? Io quando vedo quelle scene, anche qualcosa del tuo film, adesso poi citiamo anche altri, perché altrimenti poi sembra che ce la siamo preparati, e non è vero. Ci siamo conosciuti poco tempo fa, io subito, subito mi sono appassionato del tocino. Il sangue, gli effetti speciali, tutta quella parte. Uno, quanta magia è e come fai a farlo e farlo così bene, perché vedendo le tue opere uno si spaventa. Hai detto a uno che fa horror, penso che sia un bel complimento. Allora, il sangue, la problematica principale, sì, il costo, sì, poi non così tanto, si trovano anche tipi di... Il problema è trovare il sangue dalla colorazione giusta, cioè bisogna capire, fare delle prove, dei test, vedere come esce in camera, perché poi comunque quello è molto importante. Quindi è importante la qualità del sangue, ma soprattutto come viene fotografato. Idem per gli effetti speciali, cioè se tu puoi avere anche il migliore effettista al mondo, ma se non è un direttore della fotografia in grado di farli bene, e quegli effetti non risulteranno buoni. Quindi bisogna molto coordinare questi due settori, la fotografia e l'effetto speciale. Io, anzi, ne approfitto per salutare i miei effettisti. Davide Riccardi, che ha fatto i miei primi due film, in particolare nel secondo, ha fatto dei risultati secondo me eccezionali e davvero con strumenti ridotti. E poi l'area solare, che si occupa degli effetti invece di questo mio terzo film, dove c'è un po' meno sangue, però lei ha comunque fatto un lavoro molto credibile. Io qui ho messo anche qualcosa in digitale, cosa che non ho mai fatto, ma l'ho fatto come riempitivo. Cioè, per me non deve mai sostituire l'analogico, il digitale. Cioè, deve essere un ritocco che mi crea un po' più di... così, mi riempie l'effetto. Però io preferisco sempre lavorare con l'analogico, perché ti dà quel senso materico che per me è più affascinante. Io sono, diciamo, di quella old school, vecchia scuola, mi piace così. Grazie Alberto. Adesso torno a fare domande un po' più... più alla Marzullo. Senti, senti. Ci avviamo verso la fine, così diamo un po'... Mi piace tantissimo Marzullo. Diamo un po'... Anche a me, anche a me, anche a me. Io quando soffrivo di insonnia, lo guardavo, poi magari non riuscivo poi a dormire e oltre a te l'elefante facevo finta di rispondere anch'io a quelle domande. Ma credo che in tantissime l'abbiamo fatto. Ma anche... È un bel gioco. Ma anche... Non so se l'hai fatto anche tu, anche con quelle piccole frasi un po' piccate contro gli entri, contro le miei, quelle cose. E i ringraziamenti strappacuole, ecco. Domanda alla Marzullo. Come fai a nascondere dietro una scena di horror, una scena di sangue, un contenuto che sia un messaggio forte, un po' di Eros, un po' di Thanatos? Come fai a fregare, nel senso buono, il nostro spettatore inserendo anche un messaggio? Perché non è facile. È un attimo che fai 90 minuti, 120 minuti di sbudellamenti, ti metti a ridere, ti metti spaventi, piangi, sorridi, ti indamori, sono tutte cose dei film, ecco. E poi non porti a casa nulla. Come sei riuscito, perché sei riuscito, tenetelo il complimento, a dentellare, e intrattenimento a contenuto così bene? Allora, io sicuramente una cosa che ho sempre usato e continuo ad usare è l'umorismo, perché, anche se uno humor a volte è molto nero, ma perché io, comunque, è una cosa che fa parte di me, credo che alleggerisca molto tutto lo humor e quindi rende più fruibile anche la parte seria, non so come dire, no? Poi, a volte ci sono degli espedienti, tipo nel Terror Takeaway io ho fatto un primo tempo che praticamente era una commedia e nel secondo tempo l'ho trasformato in una strage e quindi ho avuto modo per comunque raccontare un po' questo mondo del lavoro precario e di quello che la gente secondo me è già costretta a fare per un lavoro quindi quando poi sono riuscito un pochino a lanciare quel messaggio mi sono più dedicato alla parte horror rompendo un po' una regola di sceneggiatura perché non si fa ma il film comunque aveva un suo equilibrio e quindi l'ho fatto consciamente e la mia ambizione in questo prossimo film Terror Zone ci ho provato è di mettere più umori possibili in un film cioè l'horror comunque sta sempre diventando sempre più contenitore e quindi mettere anche altre cose per esempio c'è un episodio di una coppia che scoppia durante il lockdown io me la sono immaginata in realtà durante il lockdown l'ho passato con mia mamma perché mi aveva appena venduto casa e quindi poi sono rimasto ancora qua e mi sono immaginato ma se io fossi se avessi una fidanzata una donna e fossi in questa situazione e mi è venuta questa storia ecco lì sono molto contento perché sono riuscito a trasferire delle cose mie intime che quando ho rivisto l'episodio montato mi ha quasi commosso perché l'ambizione più alta di un regista è quella cosa lì cioè riuscire a identificare un'atmosfera una roba che ti sei immaginato così profondamente devo dire sono molto contento di quell'episodio lì in particolare un midpoint poi andiamo nel punto di morte e poi diamo alle persone un po' di speranza e ci colleghiamo all'ultima domanda dopo il punto di morte dopo il punto di terrore c'è la risurrezione come vedi i prossimi mesi per il cinema per le tue attività insomma in questa ultima domanda in quest'ultimo spazio usciamo dal punto di morte seguendo un po' la classica scuola safe the cat e tutti gli amici del gattino che amiamo assolutamente e andiamo verso il futuro cosa ci aspetta nel futuro secondo te sempre parlando di cinema cinema horror cinema italiano e cosa stai preparando anche se un po' di spunti ti ringrazio ce l'hai dati e allora guarda io voglio assolutamente da essere speranzoso per quanto riguarda il cinema e le sale in particolare quello che vedo da pubblico è che le multisale stanno faticando molto si è un po' chiuso il cerchio mentre le sale parocchiali quelle piccole quando io ci vado sono sempre popolate quindi paradossalmente un pochino potrebbe esserci più spazio per i film come i miei e quindi questo io lo vedo come una cosa positiva credo anche che il pubblico ci sarà sempre un pubblico per le sale cioè il pubblico non si stuferà della sala perché la sala è magica e anche i giovani quando poi li porti in una sala godono perché comunque è un modo assolutamente il cinema nasce per lì non per essere visto sul cellulare detto questo mi è capitato a me di vedere dei film sul cellulare ma non è la stessa cosa quindi io spero uno di farlo uscire nelle sale due vorrei che il mio film ci sto già pensando fosse frutto in modo diverso per esempio vorrei organizzare delle proiezioni nei centri sociali ci sto già lavorando nei teatri in altri posti a me interessa anche il film giri quindi tutti i luoghi che mi danno la disponibilità io sono pronto a collaborare con loro e devo dire che ho trovato un'apertura in questo senso quindi rispetto al cinema io credo che il cinema ce la farà ce la farà ovviamente qualche cinema ha già chiuso come tante altre attività ma io penso che la voglia di tornare in sala ci sarà e per quanto guarda la vita non lo so come tutti aspetto la fine di questa roba devo dire che dal sceneggiatore tutto sommato ha iniziato a annoiare questa narrazione e quindi io ho fortemente voglia di iniziare a vivere un altro tipo di narrazione che non sia quella di stare chiusi in casa nella paura e nel terrore ecco e quindi mi sento aperto a ricominciare a stare bene spero che questo sia per molti una prima di tutto essere aperti a stare bene ecco cioè prepararci per quanto staremo meglio qualsiasi cosa tu abbia bisogno dai miei canali e da tutti quelli che mi seguono sappi che ci siamo facciamo una bella grazie una bella narrazione tutti assieme perché le tue parole sono troppo importanti diciamo che abbiamo dato abbiamo dato tanto questa parte distopica l'abbiamo vista un nuovo copione un copione perché no con una bella commedia horror fatta scritta diretta interpretata ideata da Alberto Bogo ricordatevi questo nome perché fra poco dovrò fare la fila scusami Alberto ti ricordi ti ho intervistato quando eri famoso parla con la mia segretaria no scherzando no guarda se andrà come dici tu sarai proprio il primo che salta la fila invece è proprio questa battuta anche piuttosto simpatica è un augurio un augurio perché veramente stai facendo delle cose che mi emozionano bene allora metteremo in coda a questa intervista tutti i tuoi riferimenti che però nei saluti puoi anche già iniziare a dare sarà un video su youtube nella sezione interviste e un podcast anzi anzi mi butto dovremmo fare anche un podcast un po' creepy qualche qualche notte io la voce non ce l'ho quindi posso fare era una notte buia e tempestone va bene allora grazie Alberto ti lascio ai saluti e i tuoi e i tuoi indirizzi se vogliamo un po' mandarti i saluti le domande le curiosità vai Alberto ragazzi ringrazio tutti mi sono divertito a fare questa chiacchierata e chi mi vuole seguire su instagram sono alberto bogoregista idem mi trovate anche su facebook oppure potete seguire la pagina del mio ultimo film che sia su instagram che su facebook è terrorzone e vi aspetto nei cinema allora questa primavera grande Alberto ci vediamo questa primavera un abbraccio e alla prossima ciao a presto buona serata